In ISMET è attivo un programma per la cura dei tumori maligni del fegato e del pancreas a cui è possibile rivolgersi per avere accesso per una prima valutazione. Complessivamente sono state eseguite 1.400 resezioni epatiche per la cura dei tumori del fegato e oltre 550 resezioni pancreatiche per la cura dei tumori del pancreas. Questa è un'attività multidisciplinare che riconosce il lavoro sinergico della unità fegato e della unità pancreas composte da specialisti di diverse aree della medicina che all'interno di un gruppo che ormai da 20 anni si occupa di insufficienza terminale d'organo e che ha realizzato oltre 2.500 trapianti di organi addominali è in grado di indirizzare verso l'eccellenza la cura delle neoplasie del fegato e del pancreas. È stata rilasciata la relazione del programma ESITI da Agenas che riguarda la valutazione dei parametri di volume e di qualità degli interventi chirurgici eseguiti per la cura dei tumori maligni del fegato e del pancreas e stando a questa relazione ISMET risulta fra le eccellenze in campo nazionale. Considerate che circa il 30% di tutti gli interventi chirurgici eseguiti in Sicilia per tumore maligno del fegato e del pancreas sono realizzati in ISMET. È molto importante considerare anche la possibilità di confrontare costantemente questi dati con la casa madre dell'Università di Pittsburgh e riportare come ISMET sia entrato nei registri nazionali per la chirurgia mini-invasiva laparoscopica tanto per la chirurgia del fegato quanto per quella del pancreas. Grazie. Grazie.